Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati, ben ritornate qui con noi anche alle nostre ospiti che ci supportano come ogni venerdì. E allora, Spicci GL protagonista ma anche parliamo dei patronati e quindi ben arrivata Maria Pistorello, responsabile del Dipartimento Previdenza dello SPI del Veneto buongiorno, grazie a voi. E anche Antonella Franceschin, direttore dell'Inca di Padova. Grazie a lei. E Inca ci racconterà bene di che cosa si tratta, ci spiegherà, fa parte di quei patronati che drammaticamente si vedono tagliati i finanziamenti, chiamiamoli così, gli stanziamenti che erano previsti con questa legge di stabilità e quindi messi in grossissima difficoltà. Ma la difficoltà poi naturalmente si riverbera sulle persone che si rivolgevano a questi patronati. Per fare cosa? Adesso lo vedremo bene. Comunque si tratta sempre delle solite persone, coloro che non nuotano nell'oro, quindi che si avvalevano di questi servizi perché avevano comunque delle tariffe estremamente o gratuite o calmierate per qualsiasi tipo di servizio ulteriore o più complesso e quindi persone senza dubbio non benestanti. Quando si taglia si va sempre sulla massa e poi a rimetterci sono i soliti noti. Parliamo poi dell'altro tema per il quale ci avete anche telefonato voi, ci avete anche scritto, eccetera, delle pensioni, quindi le novità che ci sono al riguardo, una rivalutazione della pensione, cosa bisogna fare, come bisogna guardare, questo è stato molto allarme in molti pensionati che si sono un po' spaventati e poi i ricorsi pilota che state facendo. Allora, dividiamo un po' questi due temi in modo tale che non creiamo tanta confusione. Io direi di partire da quella che è l'emergenza di questi giorni, abbiamo visto che i media nazionali ne hanno accennato, poi la cosa è caduta là, per carità c'è l'ordine di priorità delle cose, però se passa inosservata poi una volta passata la patata è fatta. Cosa sono questi patronati? I patronati sono organismi regolamentati giudicamente senza scopo di lucro e si trovano all'interno delle organizzazioni sindacali, per loro natura devono essere appunto costituite all'interno di organizzazioni sindacali. Allora noi ci occupiamo di assistenza, di previdenza e di sostegno a reddito ai cittadini per tutte quelle funzioni che vanno a risolvere la quotidianità del cittadino riguardo la burocrazia. Facciamo degli esempi concreti, in modo che capiamo quando andare allo SPI, al CAF, quando andare per esempio dall'Inca. Certo. Vediamo di spiegare bene con degli esempi concreti così chi ci ascolta si ritrova. Il cittadino che viene al patronato, viene al patronato per fare la domanda di pensione, la pratica di invalidità civile, la domanda di disoccupazione, degli assegni familiari. Anche disoccupazione. Le disoccupazioni, certo. Poi negli ultimi anni soprattutto tutte quelle pratiche di disoccupazione, assegni familiari, sono al centro della nostra attenzione perché da qualche anno sono telematiche. Ricordiamo che l'Italia non è un paese informatizzato, pertanto il cittadino si è trovato improvvisamente a non poter più presentare domande cartacee, ma dover per forza rivolgersi a noi per poter inoltrare una domanda fondamentale che è come quella della disoccupazione, che da loro sostegno a reddito per il periodo in cui sono alla ricerca di una nuova occupazione. Certo. Quindi diventa un ruolo cardine per certi servizi. Qualora voi non ci foste, cosa potrebbe fare il cittadino? Deve arrangiarsi? Niente, deve fornirsi di un PIN individuale e addentrarsi in quello che è appunto il mondo dell'informatica per poter accedere in modo autonoma a questo servizio. Però abbiamo l'esempio quotidiano di persone che ci provano, poi diventa troppo complicato per loro, perciò devono per forza di cose rivolgersi a noi, considerando poi che molti di questi cittadini non sono neanche muniti appunto dei mezzi informatici per poterlo fare. Quindi diciamo che supportate le fasce deboli. Esattamente. Ricordiamo una cosa appunto che queste sono tutte prestazioni che in questo momento vengono erogate proprio per nostro Statuto in modo gratuito. I servizi che offre il patronato sono assolutamente gratuiti a tutti i livelli. Non chiediamo compensi appunto perché non possiamo farlo per la modalità con cui siamo stati costituiti e per le finalità che abbiamo. Noi veniamo finanziati da dei prelievi che sono obbligatori dalla busta paga dei cittadini lavoratori e questo va a finanziare la totalità delle nostre attività. L'attività che facciamo è gratuita per il 70%. Quindi la piccola parte finanziata, il 30% dell'attività finanziata, va a coprire anche i costi della fetta più grossa che è quella appunto dell'assistenza le fasce più deboli. Certo. Continuiamo pure nel racconto del mondo dei patronati perché appunto tante volte poi parlando di patronati le persone sono indotte in errore e c'è una signora che in modo particolare ci ha scritto, ho parlato col mio prete, il parroco, ha detto no no che non viene toccato. Quindi forse c'è anche confusione tra qual è il patronato che invece... No, non siamo il patronato della chiesa parrocchiale anche se... Tutta altra cosa. Esatto. Lo spirito è quello. E non siamo nemmeno il CAF perché a volte ci confondono anche con i CAF che fanno un'attività ugualmente utile, anche loro sono stati presi di mira perché subiranno dei grossissimi tagli. Eh anche loro sono però coinvolti in questi. Esatto, in questa legge di stabilità hanno previsto un forte taglio anche per quella che è l'attività dei CAF. I patronati si occupano di previdenza e fanno da intermediari agli istituti previdenziali, quindi un'attività che è completamente diversa da quella fiscale evidentemente. E gli istituti previdenziali appunto si occupano di pensioni, previdenza, sostegno al reddito e anche prestazioni assistenziali quali l'invalidità civile e gli assegni sociali e quant'altro. Il patronato appunto fa da intermediario, da cuscinetto. Si muove all'interno di questo mondo molto complicato dove la normativa appunto si disperde in un meandro di norme che vengono annualmente modificate dalla legge Fornero a tutte le modifiche che sono state fatte poi successivamente senza tener conto poi delle modifiche di legge che sono state fatte anche per le prestazioni a sostegno dal reddito. In tre anni abbiamo avuto tre riforme, siamo passati dalla disoccupazione alla cancellazione graduale dell'indenità di mobilità per passare dall'Aspi alla Naspi. Quindi un'evoluzione anche questa galloppante che confonde il cittadino e si trova a non sapere esattamente cosa fare, come muoversi e a cosa ha diritto o meno. E pertanto noi svolgiamo questa funzione di accompagnare nello svolgimento di queste pratiche la popolazione, la fascia appunto quella più bisognosa e debole perché chi ha bisogno di prestazioni a sostegno del reddito è evidente che sono le persone disoccupate o che hanno comunque un reddito molto basso. Qui ho dei numeri perché l'Inca Cigelle fornisce un servizio a 670.000 cittadini, 670.000 sono tanti e per i pensionati poi i patronati sono fondamentali perché sui 670.000 pratiche 530.000 sono quelle previdenziali, sono tantissime. Sì, sono ai patronati a livello regionale. Sono tante veramente le pratiche quindi c'è anche una molle di lavoro molto importante. E il taglio che sarebbe ulteriore taglio è di 28 milioni di euro. Certo. Allora noi arriviamo già da un precedente taglio perché l'anno scorso la legge di stabilità aveva proposto un taglio di 150 milioni di euro che poi con le mobilizzazioni, mobilitazioni che sono state messe in atto, abbiamo raccolto più di 180.000 firme, abbiamo fatto manifestazioni, abbiamo scritto i parlamentari, avevamo avuto sostegno politico. Questo taglio si è ridotto l'anno scorso a 35 milioni di euro. Il governo aveva assicurato che per far fronte appunto a questi tagli che aveva già messo in programma di fare anche per le leggi di stabilità successive, avrebbe però emanato dei decreti che ci permettevano in qualche modo di rivedere la nostra attività e introducendo nuove tipologie appunto di servizi che potevano in qualche modo andare a soperire a quello che sarebbe stato il taglio appunto da effettuare successivamente. Questi decreti che dovevano uscire per giugno si sono visti solo a fine dell'anno, sono usciti a metà ottobre. introducendo poi, sempre con questa modalità, no, tutto arriva all'ultimo momento, quindi all'ultimo momento ti devi anche organizzare per mettere in atto questo salvataggio, tra virgolette, che poi ricade sui cittadini, perché questo salvataggio vuol dire mettere a pagamento dei servizi che noi finora abbiamo offerto in modo gratuito. Quindi non c'è scampo, arriva il taglio e in qualche modo per difenderci dobbiamo ancora una volta farlo ricadere sulle spalle del lavoratore, del cittadino, di chi ha bisogno appunto di essere supportato, facendo venire meno anche quella che è la natura della nostra attività, quella gratuita e universale. Ecco, quindi voi sostanzialmente siete gratuiti perché avete finanziamenti dello Stato, giusto? Noi abbiamo appunto una parte della nostra attività che è quella legata soprattutto alla previdenza che viene finanziata con una modalità appunto di prelievo attraverso la fiscalità generale dalle buste paghe dei laboratori, ecco, tenendo conto che viene ridotta questo prelievo senza poi indicare effettivamente cosa andrà a beneficiare la parte che non viene poi dedicata più ai patronati. Ci troviamo in grosse difficoltà. La parte finanziata, l'attività è così risoria rispetto alla totalità dei servizi che facciamo che per noi diventa effettivamente difficoltoso proseguire anche per mantenere le strutture stesse. Perché ricordiamoci, noi siamo dei lavoratori, siamo dentro delle strutture organizzate e abbiamo dei costi da sostenere. Perché sono strutture che permetteranno un affitto da pagare, per esempio. Vediamo la nostra mail. I nostri amici di Roma non capiscono niente, non capiscono che così facendo fanno un doppio danno alla società. Uno ai pensionati, povera gente, due a tutti quei giovani che non aiutiamo. Ha ragione. Purtroppo è un dato di fatto. Eh sì. Non ne sono coinvolti per cui possono anche non pensarsi. Noi abbiamo fatto un volantinaggio anche stamattina di fronte qui all'Inps di Padova, ci siamo riuniti con i patronati del CEPA, quindi Cigelle, Cisle, Wille e Acli, con i patronati appunto di queste sigle sindacali, per informare i cittadini di quello che sta avvenendo, per avere il loro sostegno, il loro riconoscimento e avere anche, sensibilizzare anche quella parte di mondo che è appunto quella che in un certo senso si contrapone però neanche il beneficio perché noi collaboriamo con l'attività che fa lo Stato, quindi l'Inps, con i servizi che poi vengono erogati effettivamente dall'Istituto perché presumo che insomma diventa anche per loro difficoltoso se viene meno la figura del patronato far fronte, dando garanzia di servizio come si ha adesso grazie ai patronati. Lo Stato andrebbe a spendere molto di più rispetto a quello che, al taglio che ci sta sottoponendo per offrire un ugual misura, servizi in ugual misura e di uguale competenza. Bisognerebbe a monte sburocratizzare molte cose, semplificare molte cose e poi procedere a sfrondare, però sburocratizzare vuol dire togliere invece il lavoro a chi è incardinato nel sistema, diciamo così, ministeriale della burocrazia eccetera. Ma in qualche modo voi siete riusciti a ridurre l'importo dei tagli perché se parliamo da 150 milioni... Siamo partiti l'anno scorso appunto con una cifra che era spropositata e avrebbe visto veramente il crollo, l'impossibilità di mantenere le nostre strutture. Ma può essere che magari ci possa essere anche da voi una riorganizzazione interna? Beh ma noi stiamo già attuando una sorta di riorganizzazione, ripeto, noi siamo supportati da un'organizzazione sindacale da soli, non potremmo comunque per la natura del finanziamento poter sopravvivere. Il patronato in sé con il finanziamento che ha non ce la fa a vivere. Allora la riduzione del taglio non riduce l'attività lavorativa che noi abbiamo perché la mole di persone a cui noi offriamo il servizio continua a rimanere tale. Il problema è che non abbiamo più la possibilità economica di mantenere le strutture, di mantenere il personale. Quindi riducendo anche la nostra attività si offre un servizio ridotto ad un numero minore di persone che appunto si dovranno rivolgere ad altri intermediari che in questo caso non avranno la natura giuridica nostra ma non a scopo di lucro ma al contrario forse diventeranno anche chiedendo qualche cosa. Esatto. Ma vi siete chiesti perché siete stati coinvolti in questi tagli? Eh questa è una domanda molto… Vediamo un altro messaggio. Forse per i nostri politici i servizi ai cittadini sono considerati sprechi e se fosse così il nostro Renzi sarebbe coerente. Per noi Veneti lo spreco è Renzi stesso. quindi chiaro il messaggio del nostro telespettatore. Esattamente. Forse diciamo che in qualche misura ha anche risposto a questa domanda. Diciamo che il disegno forse è molto più ampio che non… Perché c'è stata una battuta molto tempo fa di razionalizzare i sindacati. Certo. Chiamiamola razionalizzare. Lo si fa anche attraverso… Eh sì, ci c'è prima attraverso i ramini lunghi, no? Esatto, esatto. Ve lo aspettavate da, diciamo così, un esponente di un segretario di un partito del PD? Un'azione del genere poco democratica? Io stavo ogni tanto mi viene da ridere perché dico se questa cosa l'avesse fatta Berlusconi secondo me ci sarebbe stata la rivoluzione civile. La Farenzi, i media, tutto dicono ma non dicono. È un qualcosa di… ha fatto di quelle cose che noi umani… Sì, indipendentemente da chi l'ha fatta. No, no, ma bisogna anche dire questo perché io so che siccome era stato sostenuto dal sindacato forse voi non ve l'aspettavate un poco dialogo o provvedimenti così poco sociali e democratici tra virgolette e così pungenti nei confronti delle fasce deboli. Questo intendo dire. Ma nessuno poi se l'aspettava. La smettiamo di aspettarci qualcosa da questi ipocriti burocrati i nostri padri per ottenere i diritti hanno lottato. Non aspettato. Sì, premettendo la nostra autonomia da qualsiasi partito politico logicamente. È logico che magari da un partito di centro-sinistra ti aspetti magari più attenzione verso le persone che sono più fragili perché in questo caso qua, lo dico io, ma l'ho detto qua in questa trasmissione parecchie volte all'Inca c'è sempre una fila lunghissima di persone. Noi siamo in piena crisi dagli anni ormai da 7-8 anni che c'è questa crisi. Non a caso l'Inca è oberato di lavoro proprio per le pratiche di disoccupazione da fare che si sono moltiplicate in maniera esponenziale in questi ultimi anni. Non ci si aspettano provvedimenti di questo genere perché se noi pensiamo che, come diceva Antonella all'inizio, ci si aspetta che le persone si muniscano del PIN e che facciano tutte le pratiche perché tranquillamente si possono fare le domande degli assegni familiari o della disoccupazione tramite internet e l'accesso alla banca dati dell'Inps e ai suoi servizi online. Però chi è attrezzato per fare questo? Siamo in un paese dove non è nemmeno diffusa la banda larga. Figurarsi se le persone, ma sto parlando di lavoratori e pensionati, se sono in grado di far avanzare le loro domande con questa modalità. Questo non è possibile. Può darsi che un domani tutti saranno attrezzati e saranno nelle condizioni di poter espletare autonomamente le proprie necessità nei confronti dell'Istituto previdenziale. Adesso non è così e quindi arriva in un momento in cui noi, lo diciamo noi, ma è palese che è un attacco soprattutto ai diritti della povera gente. Messi di fronte a un ulteriore taglio, nonostante i patronati siano supportati, nel nostro caso il patronato è supportato dall'organizzazione, ci si troverà nelle condizioni purtroppo di mettere a pagamento certi servizi. Questa è una domanda più che un'affermazione. Non lo vorremmo mai fare, proprio perché i patronati sono nati proprio con la finalità di dare un servizio alle persone, di essere solidali con tutti quanti, quelli che hanno bisogno di consulenza e invece purtroppo poi ci potremmo trovare nella situazione di non riuscire a farne fronte. Continuano le mobilitazioni da parte del patronato Inca, so che oggi ci sono state a Padova ma anche nelle altre province del Veneto, noi speriamo che il governo faccia doverosamente un passo indietro. Ma avete avuto una risposta in qualche modo? Ci siete riusciti a interagire, a capire? Per adesso l'unica risposta che abbiamo avuto, grazie anche ad esponenti e parlamentari del PD stesso, che è il partito del governo però, tra di loro probabilmente c'è anche qualcuno che si pone il problema della gravità di questi tagli, è stato ridotto da 48 milioni di euro, quanto era nella prima stesura della finanziaria, a 28 milioni, ma noi diciamo che non basta, deve essere tolto completamente questo taglio da fare nei confronti dei patronati. Proponendo un'alternativa, chiedo a entrambe, cioè come sempre, dice no non lo voglio io, ci sarebbe la possibilità di recuperare in qualche altro versante? Ah ma allora qui potremmo fare una trasmissione su come si potrebbero recuperare pochi, 28 milioni di euro che sono pochissimi, perché se penso a certi scandali, per esempio anche qua nella nostra regione se penso al Mose si è mangiato molto di più di 28 milioni, ma poi se vogliamo parlarne veramente, quanti sprechi ci sono? Cominciamo ad eliminare gli sprechi finalmente in questo nostro paese, e poi tra le cose da eliminare, io sto pensando, adesso mi è venuto questo flash, abbiamo parlato di soldi, mi sono venuti in mente gli 80 miliardi che lo Stato risparmia sulla pelle dei pensionati dopo la manovra Fornero nel periodo 2012-2020 risparmierà 80 miliardi di euro, una cifra spaventosa. Se pensiamo poi che i patronati sono finanziati da un prelievo, come diceva Antonella, sulla busta paga dei lavoratori dipendenti che è uno 0,226% sulla loro busta paga, quindi i patronati non sono finanziati dalla fiscalità generale, ma sono finanziati dal prelievo fatto sui lavoratori e ancora non ce lo spieghiamo questa cosa, dove si vogliono impegnare, si chiedeva giustamente l'Antonella prima, quei soldi che avanzeranno poi, perché il prelievo dei lavoratori basta e avanza per finanziare i patronati, loro lo fanno, questo versamento lo fanno, sono obbligati a farlo, ma sanno che è un finanziamento comunque che è finalizzato a dare tutela, a cercare di tutelare i lavoratori quando hanno bisogno di fare una domanda di maternità, una domanda di assegni familiari, una domanda di disoccupazione, ma arrivo anche ai nostri pensionati, noi siamo in campo ormai da tempo con la campagna controlla la tua pensione, ma quando emergono le difformità nella pensione, chi è che fa poi la pratica relativa per la quale nessuno gli rimborsa un centesimo? Il patronato Inca nel nostro caso, il nostro patronato Inca. Chiarissimo, appunto la domanda poi era girata, ma c'è un pensiero che vi sovviene delle ragioni per le quali siete stati presi di mire in questi termini? No, le ragioni sono inspiegabili perché come giustamente Maria sottolineava, non c'è una vera ragione, perché l'utilità è palese, voglio dire, quella dei patronati per il ruolo che svolgono e per la gratuità di questo servizio, perciò, l'avevo accennato anche prima, per eguagliare il servizio lo Stato dovrebbe spendere molto di più rispetto al risparmio che ne viene dal taglio, quindi vuol dire che non avendo intenzione di incrementare quello che l'attività svolta adesso dagli istituti previdenziali, significa che una fetta rimarrà in evasa? Assolutamente, che non ho chiaro. Io lascio in sospeso con questa riflessione, andiamo a pubblicità a pochi secondi, poi ritorniamo.